guarda che sto facendo un video ragazzi il rally delle panda speriamo che non si fermi a mangiare il bambù da qualche parte sì che non vada a mangiare il bambù questo è una panda scusatemi questa non è una panda con tanta fantasia la panda se n'è andata devo tipare perché qui se faccio con la mano mi ammazzo quanto dura sto video che lo metto su Facebook faceva la vita appunto taglia spegni no? ma non taglio per un minuto ma dopo taglia allora quello che abbiamo detto adesso no ci ho preso poco non dico chi c'è non taglio nessuno ma non ti si vede la faccia sai gioia amore mio è così sotto la voce però ecco se non vissi tutti superi tanto lui ce sempre ci ha a quest'ora qui non ne si c'entra tutto in messa se è bianca e frena ciao mamma poi ti sfiga il mondo tu non dirlo almeno questo no io non ho questo è un permesso volevo venire in mezzo su un perché c'è più caldo sì ma dove sono persi a vedere qualche piola e il tuo amico è in piola c'è la tua testa guarda vuoi la foto o vuoi la video? è una panna cos'era questo? 34 come mai? non lo so il 38 si è incartato no scusa prima eravamo a 36 si sono dimenticati di averla? si sono dimenticati di averla la panna? il numero era la panna scusa adesso mi lascia l'ultima cos'era e perché è passata a 34 ha detto lui ma che cosa? l'ho passata l'ho passata una panna quindi manca ancora 37 giusto? no questa era la panna prima e questa è un'altra mia poletta cos'era? cos'era? Grazie.